Il lunedì abbiamo davanti una nuova giornata e una nuova settimana, abbiamo davanti una nuova partita da giocare, ma il Signore oggi, in questo lunedì, ci accoglie e ci introduce in questa giornata e in questa settimana e ci accompagna con delle parole meravigliose. Coraggio, ci dice, coraggio! Io ho vinto il mondo, io combatto con voi, io ho vinto la partita che iniziate questa giornata. Mettetevi tranquilli, mettetevi con l'anima in pace, avrete tribolazioni nel mondo, cioè avrete tribolazioni ovunque andrete. Il nostro oroscopo divino non sbaglia mai, non ci sono congiunzioni astrali che tengano, avremo tribolazioni in questa settimana, in questa giornata. Le orme che ci attendono sono problemi, macelli, persone che si mettono contro di noi, debolezze, fragilità, cadute. Si faremo molto male, ma sappiamo qual è il risultato. Il mio lettore di seminario, padre Miguel, che è già in cielo, ci diceva sempre, Ragazzi, coraggio, perché la vita è una partita di calcio, durissima, ma di cui sappiamo già il risultato. E permettete? È ben diverso entrare in campo per giocare una partita sapendo che vincerai sicuramente. Però certo, sapere che la partita la vinceremo non esclude il doverla giocare, non esclude le ferite, non esclude che ci menino, e non esclude anche che dovremo entrare in ogni contatto con l'avversario, cioè con il demonio, con le tentazioni, con i problemi, da soli. Ma se vivremo insieme a lui, se cioè questa partita la giocheremo uniti intimamente a lui, se lui sarà dentro di noi a giocare per noi, con noi e in noi, allora esattamente come è accaduto a lui, anche se apparentemente era solo sulla croce e i chiodi trapassavano la sua carne come le botte ci arrivano e ci feriscono, lui non era solo, tu non sarai solo. In Cristo e con Cristo il Padre è con te, il Padre ti spinge, ti accompagna, ti appira verso la vittoria finale, verso il cielo, verso il trofeo, verso la vita eterna, la comunione eterna nell'amore con Lui. Allora coraggio, le ferite della nostra carne dovute alla partita che giocheremo saranno gloriose e saranno i segni della nostra vittoria in Cristo, come le ferite di Cristo sono oggi nella sua carne gloriose e luminose a testimoniare che il Padre era stato sempre con Lui e così il Padre sarà sempre con te, proprio perché tu ferito con Cristo e in Cristo sulla croce di ogni giorno combatterai e vincerai. Coraggio, non temere, la partita è vinta.